va bene ragazzi dai ci abbiamo provato è una risata un po' isterica la mia perché poi dopo alla fine quando inizi la partita entri entri dentro in campo e vorresti sempre vincere però bisogna essere obiettivi dai ragazzi sono livelli un po' troppo alti ancora per il Milan devo essere sincero contro l'Iverpool poi è vero Girone alla fine passa all'Atletico Madrid con 7 punti perciò magari con le altre due te la potevi giocare e qualche diciamo che si può recriminare la partita d'andata comunque ragazzi quando poi incontri queste squadre questi ci hanno palleggiato in faccia con le seconde linee insomma vabbè percorso di crescita percorso di crescita come dicono tutti quando non si sa cosa dici percorso di crescita no vabbè però a parte quello è un vero percorso di crescita per noi dopo tanti anni con dei ragazzi giovani ragazzi qua Champions League erano due o tre ragazzi che l'avevano fatta qualche partita perciò erano tutti abbastanza novelli in Champions non era non era semplice bene ragazzi allora ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico National nella casa del pane ballon vi chiedo subito un bel like se siete se siete come si dice no facciamo così fatemi un bel like proprio perché l'essere stato eliminato almeno ci consola con un bel like iscrivetevi al canale lo so che è un pochettino una serata così però iscriveteci consoliamo a vicenda magari nei commenti mi scrivete cosa vi ne pensate e io vi rispondo e detto questo ragazzi partiamo facciamo una piccola analisi della partita insomma il primo tempo partito abbastanza chiuso un po' bloccato a centrocampo loro ragazzi fanno un pressing che è un qualcosa di fenomenale io non ho mai visto perché loro ti pressano pressano il portatore di palla con due uomini e più ce ne sono altri due barra tre vicino nei paraggi subito dopo insomma diventa difficile liberarsi liberarsi della palla e oltretutto non perderla perché comunque la riconquistano fanno un pressing veramente organizzato e bello bello è vero che poi se riesci a saltare quel pressing hai quattro giocatori in meno da pensare perché se sono lì li salti però diventa difficile proprio passarlo superarlo quel pressing perciò aveva detto bene bisogna cercare di superare il primo pressing loro e non siamo riusciti a farlo sempre anzi quasi mai eravamo contratti forse magari anche un pizzico impauriti a cercare di non prendere il gol siamo riusciti a far poco la partita insomma Messias non ha dato quello che avrebbe dovuto dare un applauso a Crunici perché secondo me ha fatto una partita sontuosa oggi e l'unico veramente che mi è piaciuto veramente tanto tanto a parte Tomori perché anche Tomori mi è piaciuto al di là dell'errore vabbè detto questo continuiamo a analizzare il primo tempo comunque partita chiusa contratta e però sai sull'unica azione che siamo riusciti a creare noi dove secondo me lì Ibrahimov ci deve fare molto molto di più e ne è uscito fuori un calcio d'angolo ma l'Ibra ha la palla sul destro sul piede forte deve tirare una cannonata dieci anni fa lo fulmina al portiere dieci anni fa una palla del genere tira una cannonata che lo butta dentro alla porta al portiere mentre lì ha tentennato un pochettino vabbè poi ne è uscito fuori un calcio d'angolo si vede che era destino perché che in quel momento dovessimo far gol perché da quel calcio d'angolo appunto mette sta palla tesa dentro dove non la prende nessuno le arriva davanti al portiere che la respinge e lì è più lesto di tutto Tomori in mezzo a 5 giocatori loro diciamo anche che loro si sono un po' addormentati in quel gol lì però è uscito fuori Tomori ha messo la palla dentro grande grande Tomori si fa trovare pronto in queste partite è l'unico secondo me a parte Ibrahimovic che diciamo c'è già esperienze e quant'altro è l'unico che nei giovani è quello che non ha paura di giocarle queste partite perciò è molto e ne è uscito fuori ma ha fatto secondo me una grande partita una grande partita cercava sempre l'anticipo seguiva l'attaccante fino alla tre quarti loro e si è fatto ha fatto gol insomma per me a parte l'errore ragazzi che può succedere nel calcio io non condanno l'errore di un giocatore appena ha fatto una gran partita niente ragazzi secondo me la partita si era messa poi nei binari giusti perché sui binari giusti perché 1-0 non devi più fare la partita devi cercare non di chiuderti ma perché comunque loro ragazzi giocano così comunque non avevano bisogno della vittoria cioè non è che venivano a fare l'arren budget facevano il loro calcio loro l'avrebbero fatto sullo 0-0 sull'1-0 per loro o anche sull'1-0 per noi perché quello è il calcio che hanno fatto loro però dalla tua avevi che eri in vantaggio perciò potevi cercare di gestire meglio a volte ragazzi una una sana ciabattata in avanti voglio dire non è che però vabbè detto questo esce fuori sto gol qua ragazzi che si si è fatto saltare come un birillo tu metti un birillo fermo fai quella quella quell'allenamento no col birillo fermo che lo scarti e tiri e ha fatto così ragazzi non si può non era un'azione in velocità che ti dribbla e rifermo tu e fermo lui davanti a te con la palla non ti puoi far dribblare io ho sentito poi in televisione fenomeni tipo Ruiu di Tele Lombardia lo dico perché mi ce l'ho qua dire papera del portiere ma papera del portiere di che cosa ma che cosa poteva fare megnana quello ha tirato una cannonata dal limite dell'aria con tutto lo spazio aperto quel più che rinviarla come ha potuto poi la palla è andata lì sì forse poteva rinviarla un po' più al lato ma non era semplice lì quello non deve tirare a difesa schierata con la linea della difesa davanti e il centrocampista davanti a quello che ha tirato non può tirare mai perciò il portiere non se l'aspetta il tiro ha già fatto la parata distinto e poi dopo ci siamo un po' addormentati noi come loro sul calcio d'angolo arriva perché è arrivato Salah e la messa dentro ma lì è l'errore di che sì non Ruyo che siccome lui vuole continuare a dire Donnarumma il miglior portiere l'abbiamo persa a zero continuare a rompere i coglioni con questa storia ha detto papera di megnano ma come si fa a dire papera di megnano veramente ascoltare questi qua ti viene veramente il fegato marcio ragazzi va bene detto questo sarebbe meglio non ascoltarle a volte veramente detto questo ma soprattutto Ruyo perché veramente è proprio fastidioso fastidioso detto questo vabbè è 1-1 e palla al centro peccato devi cercare vabbè però comunque la partita non è che lei compromessa sei ancora al primo tempo è tutto secondo tempo davanti dall'altra parte pareggiano è una partita di attesa eri riuscito a sbloccare devi cercare di aspettare ancora il momento giusto primo tempo sei chiuso 1-1 va bene secondo tempo ragazzi però non si può secondo tempo sembrava fossimo partiti anche bene e poi arriva l'errore vabbè cosa c'è da dire lì è stato proprio un errore ha sbagliato il passaggio gli scappa via la palla il giocatore la prende e tira respinta del portiere in qualche modo e colpo di testa gol sostanzialmente partita chiusa perché poi sostanzialmente partita chiusa diventa difficile in campionato vincere le partite quando subisci due gol figuriamoci in Champions League figuriamoci contro Liverpool ragazzi non puoi vincere una partita se subisci due gol noi ultimamente stiamo subendo troppi troppi gol dobbiamo fare attenzione da quel lato lì perché le partite le grandi squadre vincono i campionati o comunque subendo pochi gol se ne subisci tanto diventa difficile farne sempre 4-5 e come fai a fare 4 gol a Liverpool perciò sostanzialmente partita chiusa poi vabbè poi alla fine meglio così perché almeno non hai neanche il 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 rammarico di dire cavolo però se vince perché poi dopo alla fine l'Atletico ma da 23 a 1 perciò avremmo dovuto vincere con due gol di scarto vabbè diventava difficile tutto quanto perciò ragazzi bene così è un peccato un peccato perché poi comunque dopo l'errore loro hanno continuato a fare la loro la loro partita loro hanno fatto la loro partita comunque anche in vantaggio e noi abbiamo fatto fatica poi sì un po' nel finale con i cambi siamo usciti un po' ho visto entrare bene Benacerba Cayoco insomma siamo arrivati anche al punto di poterla pareggiare ma il peggiore in campo oggi ha fatto la differenza nel Milan il peggiore in campo sia in difesa che in attacco perché ha avuto la palla per pareggiare non ho capito cosa volesse fare lì dove la voleva mettere lì c'è solo da metterla dentro e basta porta spalancata tu devi fare gol e a sei minuti dalla fine vai sul 2-2 innanzitutto non perdi la partita poi puoi pensare di fare un arrembaggio e provarci poi non concludi niente perché se l'Atletico ti vince 3-1 non concludi niente però almeno ti fai vedere che non che 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 dai segni di vita ha fatto una partita indecente oggi che sì indecente uno non può chiedere tutti quei soldi e fare delle partite indecente in Champions League perché se tiriamo le somme di Cassini in Champions League a parte la partita a Oporto che ha fatto una gran partita e poi ha fatto anche l'assist del gol non a Oporto scusate a Madrid la gran partita e ha fatto l'assist e il gol di Messias contro l'Atletico all'andata 0 contro il Liverpool all'andata 0 anzi contro l'Atletico è andata ha pure compromesso perché si è fatto pure espellere contro il Porto una non ha giocata e l'altra che ha giocato 0 oggi 0 cioè su 5 partite giocate perché una non c'era per l'espulsione su 5 partite giocate 4 malissime e una bene e tu vuoi tutti quei soldi lì è difficile che trovi la squadra mi sa che è molto molto difficile che la trovi molto molto quei soldi che vuoi tu 9 milioni come si sente in giro è molto difficile che la trovi perché 9 milioni li prendono i vari cantè quella gente lì vedete voi detto questo ragazzi si poteva riaprire non è stato fatto poi ci abbiamo provato ancora comunque nel finale l'ho visto bene mi ha reagito bene con la testa un po' oramai leggera l'Atletico vinceva perciò tutti quanti in avanti a cercare insomma a un certo punto abbiamo preso un contropiede si poteva rischiare anche di prendere il 3-1 sarebbe stato forse eccessivo detto questo ragazzi bene va bene così ci abbiamo provato ci abbiamo sperato ci abbiamo creduto a un certo punto meglio uscire fuori dall'Europa anziché poi perché se arrivavamo terzi poi magari andavamo anche in Europa lì invece è stato meglio così fuori facciamo quello che dobbiamo fare quest'anno testa al campionato e basta e basta la Champions League ce la rigiocheremo l'anno prossimo il girone testa al campionato e vinciamolo ragazzi vinciamo il campionato adesso noi abbiamo dalla nostra che avremo una partita alla settimana ci possiamo riposare infortunio un infortunio quando è una partita la settimana sei più tranquillo vinciamo nel senso cerchiamo di portare a casa questo campionato facciamo come ha fatto l'Inter l'anno scorso perché poi vincendolo parti anche in testa di serie magari l'anno prossimo fai una Champions diversa detto questo ragazzi va bene vi auguro una buona serata domani faremo le pagelle faremo un'analisi di tutto quanto in questo momento non so neanche quanto ha fatto l'Inter adesso andrò a vedere detto questo ragazzi vi auguro una buona serata e a domani ciao